Oh no, è scaduta la panna! Mamma, lo avevi comprato lo yogurt? Oh no, è finito il burro! No, non trovo la liccia della spesa! Niente paura, da oggi c'è SmartPink! SmartPinko è un dispositivo elettronico intelligente che installato sul mio frigorifero consente di avere un itinerario del cibo presente all'interno e tenere sotto controllo la data di scadenza dei prodotti. SmartPinko, in parte, grazie al suo sistema di lettura ottica che si interfaccia con Google Works riesce a riconoscere il prodotto e applicare nel suo database la quantità e la data di scadenza. E poi, grazie all'app per dispositivi mobili, è possibile consultare SmartPinko ovunque ti trovi. Potremmo così conoscere in ogni momento la quantità e il tipo di cibo presente nel frigorifero evitando di rimanere senza ed evitandoci brutte sorprese e avere la vista della spesa sempre con l'altra ed evitare di venditare Allora, niente più esitazione SmartPinko, il dispositivo intelligente è per una spesa corrente!